Leo! Le ali d'oro erano esagerate. Leo poteva ammirare la biga e due cavalli bianchi. Non aveva problemi con la scintillante veste senza maniche della dea, un modello che a Calypso stava molto meglio ma a pazienza, né con la sua alta conciatura di trecce scure, cinta da una corona d'alloro dorata. Nick aveva gli occhi sgranati e un'espressione un po' folle, come se fosse appena scesa dalle montagne russe dopo essersi scolata a venti caffè, ma Leo poteva farsi andare bene pure quello. Anche la lancia dorata che la dea gli puntava al petto alla fin fine era accettabile. Ma quelle ali! Erano d'oro lucido fino all'ultima piuma. Anche se ne apprezzava la fattura elaborata erano davvero eccessive, troppo appariscenti, troppo sfavillanti. Se fossero state dei pannelli solari, Nick avrebbe prodotto energia sufficiente a illuminare tutta Miami. Signora, disse, potrebbe ripiegare le ali per favore? Mi sta venendo un'insolazione. Cosa? Nick si voltò di scatto come una gallina spaventata. Oh, il mio brillante piumaggio! E va bene. Suppongo che non si possa morire in gloria quando si è accecati e ostionati dalla luce. Ripiegò le ali. La temperatura tornò a una normale affa estiva. Leo lanciò un'occhiata ai suoi amici. Frank era immobile e squadrava la dea dall'alto in basso. Il suo zaino non si era ancora trasformato in arco e faretra, una scelta prudente. Con ogni probabilità non era nemmeno troppo spaventato, perché aveva evitato di tramutarsi in un pesce rosso gigante. Hazel stava avendo qualche problema con Arion. Lo stallone Rohan nitriva e sgroppava, evitando di incrociare lo sguardo dei cavalli bianchi di Nick. Quanto persi, impugnava la sua penna a sfera magica, come se non sapesse scegliere se scatenarsi con la spada o autografare la biga della dea. Nessuno si decideva a parlare. Leo sentì la mancanza di Piper e Annabeth. Loro ci sapevano fare con le parole. Qualcuno però doveva dire qualcosa prima che morissero tutti in gloria. Si rassegnò a farlo lui. Allora, puntò gli indici verso Nick. Nessuno mi ha informato e nel dépliant di Frank non c'era scritto nulla in merito. Potrebbe dirmi cosa sta succedendo qui? Lo sguardo stralonato della dea lo innervosiva. Chi aveva da fissare gli andava a fuoco il naso per caso. A volte capitava quando era sotto stress. Dobbiamo stabilire la vittoria, strepitò Nick. La gara deve avere un esito. Siete venuti qui a determinare il vincitore, vero? Frank si schiarì la voce. Lei è Nick o Vittoria? La dea si strinse le tempie fra le mani. I suoi cavalli si impennarono e Arion limitò. Nick fu scossa da un brivido e si spezzò in due immagini distinte. A Leo venne in mente, per una ridicola associazione, quando da piccolo si stendeva sul pavimento e giocava con la molla del fermaporta fissata al battiscopa. La tirava al massimo e poi la lasciava andare. Boing! E la molla vibrava avanti e indietro così velocemente che sembrava sdoppiarsi in due riccioli separati. Ecco a cosa somigliava Nick. A un fermaporta divino diviso in due. A sinistra c'era la prima versione. Veste senza maniche scintillante, trecce scure cinte dall'oro, ali dorate ripiegate sulle spalle. A destra c'era una versione differente, con il pettorale e gli schinieri di un'armatura romana pronta per la guerra. Corti capelli castani spuntavano dal bordo di un alto elmo. Le ali erano bianchissime, la veste color porpora, mentre sull'asta della lancia campeggiava l'insegna romana, la scritta SPQR cinta dall'oro. Io sono Nike! gridò l'immagine a sinistra. Io sono Vittoria! gridò quella a destra. Quando si dice avere una doppia personalità. La dea incarnava l'espressione alla lettera, pensò Leo, più di tutti gli altri dei. I suoi due aspetti parlavano in contemporanea e la sua figura continuava a tremare e a dividersi. Leo aveva le vertigini. Ho tentato di tirare fuori gli attrezzi per regolare al minimo il suo carburatore divino, perché tutto quel vibrare rischiava di farle saltare il motore. Sono io a stabilire la vittoria! gridò Nike. Un tempo mi ergevo qui, all'angolo del tempio di Zeus, venerata da tutti. Vegliavo sui giochi olimpici. Le offerte di tutte le città-stato si accumulavano ai miei piedi! I giochi sono irrilevanti! strillò Vittoria. Io sono la dea del successo in battaglia! I generali romani mi adoravano! Augusto stesso mi resse un altare nel senato! Urlarono le voci all'unisono. Dobbiamo decidere! Dobbiamo stabilire la vittoria! Arion sgroppò così violentemente che Hazel dovette smontare per non cadere. E prima che riuscisse a calmarlo, il cavallo scomparve, lasciando una scia di vapore sulle rovine. Divina Nike, disse Hazel avvicinandosi piano, lei è confusa come tutti gli dèi. Greci e romani sono sull'orlo della guerra. Per questo i suoi due aspetti sono in conflitto? Lo so! La dea scosse la lancia e la punta vibrò come un elastico, sdoppiandosi. E io non posso tollerare un conflitto irrisolto! Chi è il più forte? Chi è il vincitore? Signora, non ci sarà nessun vincitore, rispose Leo. Se scoppia la guerra perderanno tutti. Nessun vincitore? Nike lo guardò con un'espressione così scioccata che Leo per un attimo fu certo di avere davvero il naso in fiamme. C'è sempre un vincitore! Un unico vincitore! Tutti gli altri perdono! Altrimenti la vittoria non ha senso! Che volete da me che mi metta a distribuire certificati a ogni contendente? Piccoli trofei di plastica ai singoli atleti o soldati per la partecipazione? Ci mettiamo in fila e ci stringiamo la mano dicendo bella partita? No! La vittoria deve essere reale, va meritata! E questo significa che deve essere straordinaria e difficile, ottenuta a dispetto di molte avversità! E che la sconfitta deve essere l'unica alternativa possibile! I due cavalli della Dea fecero per darsi un morso a vicenda come per entrare nello spirito del suo discorso. Ok, commentò Leo. Vedo che ci tiene moltissimo a questa cosa. Ma la vera guerra è contro Gea! Leo ha ragione, intervenne Hazel. Nike, lei ha guidato la biga di Zeus durante l'ultima guerra contro i giganti, non è vero? Certo! Allora sa che è Gea il vero nemico. Abbiamo bisogno del suo aiuto per sconfiggerla. La guerra non è fra Greci e Romani. Vittoria tonò. I Greci devono morire! Vittoria o morte! strepitò Nike. Uno dei due contendenti deve prevalere! Frank sbuffò. Come se non me lo sentissi ripetere già abbastanza dalle urla di mio padre nella testa. Vittoria lo fulminò con lo sguardo. Un figlio di Marte, vero? Un pretore romano? Un vero romano non risparmierebbe mai, Greci! Non posso tollerare di essere divisa e confusa! Non riesco a pensare! Uccidili! Vinci! Mai! replicò Frank, anche se Leo notò che gli pulsava l'occhio destro. Anche lui faticava a trattenersi. Nike emanava ondate di tensione incendiandogli i nervi. Si sentiva come se fosse Kino sulla linea di partenza, ad aspettare che qualcuno gridasse, via! Provava il desiderio irrazionale di prendere Frank per il collo. Una vera stupidaggine, considerato che non aveva nemmeno le mani abbastanza grandi. Senta, signora Vittoria, Percy cercò di sorridere. Non vogliamo interrompere questo suo splendido momento di follia. Se vuole, la lasciamo finire questa conversazione con se stessa e torniamo più tardi, con delle armi più grosse e magari qualche sedativo. La dea brandì la lancia. Voi metterete fine alla faccenda una volta per tutte! Oggi adesso subito deciderete la vittoria! Quanti siete? Quattro? Ottimo! Faremo delle squadre! Forse maschi contro femmine! Eh no, replicò Hazel. Magliette contro petti nudi! Decisamente no, ribatte Hazel. Greci contro romani! Gridò Nike. Ma sì, certo! Due contro due! L'ultimo semidio rimasto vince! Gli altri moriranno in gloria! Leo si sentì attraversare da un brivido di competizione. Dovette attingere a tutta la sua forza di volontà per non infilare le mani nella cintura, prendere un martello e dare una bella botta in testa a Hazel e Frank. Capì quanto avesse avuto ragione Annabeth a non mandare nessuno i cui genitori divini avevano delle rivalità naturali. Se Jason fosse stato lì, lui e Percy avrebbero già iniziato a farsi fuori a vicenda. Si costrinse ad allentare i pugni. Senta signora, non ci metteremo a giocare agli Hunger Games. Non esiste proprio! Ma vincereste un premio favoloso! Nike infilò la mano in un cestino al suo fianco e tirò fuori una folta corona verde dall'oro. Questa corona di foglie potrebbe essere vostra! Potrebbe cingere la fronte di uno di voi! Pensate alla gloria! Leo ha ragione, intervenne Frank con gli occhi puntati sulla corona. La sua espressione era un po' troppo avida per i gusti di Leo. Noi non combattiamo gli uni contro gli altri. noi combattiamo i giganti! E lei dovrebbe aiutarci! E va bene! La dea sollevò la corona dall'oro con una mano e la lancia con l'altra. Percy e Leo si scambiarono uno sguardo. E sta dicendo che si unirà a noi? Chiese Percy. Ci aiuterà a combattere i giganti? Questo farà parte del premio! Rispose Nike. Chiunque vincerà sarà mio alleato! Combatteremo i giganti insieme! E a lui o a lei concederò la vittoria! Ma potrà esserci un solo vincitore! Gli altri dovranno essere sconfitti, uccisi, distrutti, annientati! Qual è la vostra decisione, semidei? Volete il successo dell'impresa? O preferite restare aggrappati alle idee mollaccione di amicizia e premi di partecipazione per tutti! Percy tolse il tappo alla sua penna. Vortice si allungò in una spada di bronzo celeste. Leo per un attimo ebbe paura che la rivolgesse contro di loro. Era davvero difficile opporsi all'aura di Nike. Invece Percy puntò la lama contro la dea. Che ne dici se invece combattiamo contro di te! Gli occhi di Nike scintillarono. Se vi rifiutate di combattere gli uni contro gli altri sarete persuasi a farlo! Nike spalancò le ali dorate. Quattro penne metalliche si staccarono e fluttuarono giù, due a destra e due a sinistra della biga. Le penne rotearono in aria come ginnaste, diventando sempre più grandi, facendosi spuntare braccia e gambe e infine toccando terra sotto forma di quattro repliche della dea a grandezza d'uomo, armate di lancia dorata e con il capocinto da una corona d'alloro di bronzo celeste, fin troppo simile a un frisbee di filo spinato. Allo stadio! gridò la dea. Avete cinque minuti per prepararvi! Poi verrà versato il sangue! Leo stava per replicare... E se ci rifiutiamo di andare allo stadio? Ma la risposta anticipò la sua domanda. Correte subito! strepitò la dea. O andate allo stadio! O le mie Nike vi uccideranno all'istante! Le donne metalliche spalancarono le bocche e vomitarono un suono simile al boato di una folla da stadio, misto al riverbero di un amplificatore. Agitarono le lance e caricarono i semi dei. Non fu un grande momento per Leo. Colto dal panico si diede alla fuga. La sua unica consolazione fu che anche gli altri reagirono allo stesso modo e i suoi amici non erano certo dei codardi. Le quattro donne metalliche si sparpagliarono alle loro spalle in semicerchio, dirigendo la loro fuga verso nord-est. I turisti erano spariti. Forse si erano rifugiati al fresco del museo, o forse Nike li aveva costretti in qualche modo ad andarsene. I semi dei correvano inciampando sui sassi, scavalcando muretti, schivando colonne e tabelloni informativi. Dietro di loro, le ruote della biga della dea tuonavano e i cavallini trivano. Ogni volta che Leo pensava di rallentare, le donne di metallo strillavano di nuovo, come le aveva chiamate Nike, Nike, Nikette, riempiendolo di terrore. E lui odiava essere terrorizzato. Era imbarazzante. Laggiù! Frank scattò verso una specie di trincea chiusa fra due pareti di terra battuta e coperta da un arco. A Leo fece venire in mente uno di quei tunnel che le squadre di futbol attraversano prima di entrare in campo. «È l'ingresso del vecchio stadio olimpico! Si chiama Cripta! Che brutto nome!» gridò Leo. «Perché ci stiamo andando?» boccheggiò Persi. «È proprio quello che vuole lei!» Le nichette strillarono di nuovo e ogni forma di pensiero razionale abbandonò Leo. Corse verso il tunnel. Quando raggiunsero l'arco, Hazel gridò «Aspettate!» Si fermarono inciampando. Persi si piegò in avanti con il fiato corto. Leo aveva notato che sembrava restare senza fiato più facilmente negli ultimi tempi, forse per colpa di tutta l'aria acida che era stato costretto a respirare nel tartaro. Frank si voltò a guardare la strada da cui erano venuti. «Non le vedo più! Sono scomparse!» «Hanno rinunciato?» chiese Persi speranzoso. Leo perlustrò le rovine con lo sguardo. «Ne dubito! Ci hanno solo radunati qui, dove volevano loro!» «Cosa sono quegli affari a proposito? Le nichette, intendo!» «Nichette?» Frank si grattò la testa. «Credo si dica «nicai», plurale di niche, come dire «vittorie!» «Sì!» Eisel sembrava molto assorta. Stava carezzando l'arco di pietra. In alcune leggende, niche aveva un esercito di piccole vittorie che mandava in giro per il mondo a eseguire i suoi ordini. «Come gli elfi di Babbo Natale!» commentò Persi. «Solo che sono cattive. E di metallo. E fanno un casino del diavolo!» Eisel permette le dita sull'arco come per prendere le pulsazioni. Dopo il tunnel stretto, le pareti di terra battuta si aprivano in un ampio campo delimitato da morbide alture sui lati, simili a degli spalti. Leo intuì che all'epoca del suo splendore era stato uno stadio a cielo aperto, adatto al lancio del disco, del giavellotto e del peso, o di qualunque altra cosa lanciassero quei pazzi seminudi dei greci per vincere un mazzo di foglie. «Questo posto è abitato dai fantasmi!» mormorò Eisel. «Queste pietre sono imbevute di dolore!» «Ti prego, dimmi che hai un piano!» disse Leo. «Preferibilmente uno che non comporti il mio dolore imbevuto nelle pietre!» Gli occhi di Eisel apparivano cupi e distanti, come quando erano stati nella casa di Ade e quasi guardassero un livello diverso di realtà. «Questo era l'ingresso degli atleti. Nicky ha detto che abbiamo cinque minuti per prepararci. Poi si aspetta che usciamo e diamo inizio ai giochi. Non ci permetterà di lasciare il campo finché tre di noi non saranno morti.» Persi si appoggiò alla spada. «Sono abbastanza sicuro che i combattimenti mortali non fossero una disciplina olimpica.» «Beh, oggi sì!» mormorò Eisel. «Ma potrei procurarci un vantaggio. Quando usciamo dal tunnel potrei far emergere degli ostacoli sul campo, dei nascondigli per guadagnare tempo.» Frank si accigliò. «Vuoi dire come nel campo di Marte? Trincee, gallerie e cose così? Riesci a farlo manovrando la foschia?» «Credo di sì», rispose Eisel. «Probabilmente a Nicky piacerebbe vedere degli ostacoli. Posso usare le sue aspettative contro di lei. Ma non solo. Posso usare qualsiasi via sotterranea, anche questo tunnel, per accedere al labirinto. Potrei far emergere una parte del labirinto in superficie? Ehi no, aspetta, fermi tutti!» Persi fece il segnale di time out. «Il labirinto è malvagio. Ne abbiamo già parlato.» Eisel Persi ha ragione. Leo ricordava fin troppo bene l'altro labirinto, quello illusorio della casa di Ade. Avevano rischiato di morire a ogni passo. «Cioè, lo so che sei brava con la magia, ma abbiamo già quattro nichette urlanti di cui preoccuparci. Dovrete fidarvi di me!» replicò lei. «Ci restano solo un paio di minuti. Quando usciremo dal tunnel, potrò almeno manipolare il campo da gioco a nostro vantaggio.» Persi sbuffò. «E con questa è la terza volta che mi costringono a combattere in uno stadio. Mi è già successo a Roma, e prima ancora nel labirinto. Detesto esibirmi per il divertimento del pubblico.» «A nessuno di noi piace», osservò Hazel. «Ma dobbiamo prendere niche alla sprovvista. Fingeremo di combattere finché non neutralizziamo quelle nichette. Ma che razza di nome! E poi sottomettiamo niche, come ha detto Giunone.» «Mi sembra sensato», concordò Frank. «Avete sentito anche voi quanto era potente prima, mentre cercava di metterci gli uni contro gli altri. Se sta mandando le stesse vibrazioni a tutti i greci e i romani, non ce la faremo mai a evitare la guerra. Dobbiamo riuscire a controllarla.» «E come?» chiese Persi. «Le diamo una botta in testa e la ficchiamo dentro un sacco?» Gli ingranaggi mentali di Leo cominciarono a girare. «A dire il vero, non è un'idea tanto balorda», replicò. «Lo zio Leo ha portato dei bei giocattolini per voi, miei piccoli semidei.» «A dire il vero, non è un'idea tanto balorda». «A dire il vero, non è un'idea tanto